Violente, nel linguaggio usato per imporsi e tradizionali, nel far soldi. Sono le mafie pugliesi, descritte così nella relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno mafioso in Puglia, dove imperversano gruppi organizzati che, anche se attivi in territori diversi dal punto di vista politico, sociale, culturale, economico e morfologico, vivono prevalentemente di estorsione e traffico internazionale di sostanze stupefacenti. La criminalità organizzata pugliese emerge dal documento ha subito un profondo cambiamento nel corso degli anni, lasciandosi andare a un processo di mafizzazione che porta con sé logiche simili a quelle di Cosa Nostra e della Camorra e impartite da esponenti della Mala Calabrese, Siciliana e Campana, che sui territori o nelle celle delle carceri condivise con i pugliesi hanno dettato le nuove regole, i nuovi modi di fare per lucrare a scapito della legge. La regione nella relazione appare divisa in tre grandi zone, ovvero Sacra Corona Unita, attiva nella parte sud, con pagine barese che si estende con propagini anche nella barletta Andrea Trani e mafie foggiane con la cosiddetta società foggiana. E' proprio in quest'ultimo territorio che dalla fine degli anni settanta si sono compiuti più di 300 episodi di sangue di stampo mafioso, di cui il 20% ha avuto un esito giudiziario. I foggiani hanno anche cannibalizzato spazi limitrofi come quelli della BAT, che si trova ai primi posti in Italia per reati violenti. La provincia a nove ratristi primati e al primo posto tra le province pugliesi nelle statistiche giudiziarie per tasso di criminalità, ai primi posti per numero di reati violenti, insieme a Caltanissetta e inoltre la prima provincia per indice di presenza di criminalità organizzata, pari a 40,9 su una media nazionale di 29. Non solo, il numero di denunce per furto è così elevato che ad esempio supera del doppio, quello di Roma. Non si contano poi i furti in appartamento e le autovetture. Pur a fronte di questi indici di criminalità così allarmanti, tuttavia continua ad essere avvertita una scarsa presenza dello Stato e un senso generale di sottovalutazione del fenomeno, come del resto già segnalato nel 2018 dalla Commissione Antimafia.